Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una perquisizione in cui gli è stato sequestrato circa un chilo di ascici nascosto in casa. I poliziotti del commissariato di Gela in provincia di Caltanissetta lo hanno tratto in arresto nella flagranza di reato, di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato venerdì scorso quando la Polizia di Stato, nel corso di un controllo eseguito in una via del centro storico di Gela, ha fermato il giovane che transitava a bordo della propria auto, notando subito un evidente stato di agitazione manifestato dal ragazzo. Lo stesso è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. Nell'abitazione del ragazzo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilogrammo di ascici, in parte in panetti e in parte già confezionata e pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il ventenne è stato condotto subito negli uffici del commissariato di polizia. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora a Gela.